Saranno le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera e condotte dei carabinieri a far luce sulle cause del crollo della palazzina di Treppiani in ristrutturazione tra via Protospata e via Beccaria, avvenuto ieri poco dopo le 13 a Matera. Nel corso della notte i Vigili del Fuoco, anche con l'ausilio di squadre specializzate che utilizzano droni e unità cinofile, hanno lavorato per escludere la possibilità che sotto le macerie vi fossero persone. Gli operai che erano al lavoro al momento del crollo erano in pausa pranzo. Anche stamane si lavora per liberare la strada dalle macerie. Intanto sono circa 60 le persone sgomberate a seguito del crollo e l'effetto dell'ordinanza emanata dal sindaco Domenico Bennardi per sei immobili attivi allo stabile crollato che era stato già dichiarato inagibile circa tre anni fa. Tra gli edifici che rientrano nell'ordinanza vi è anche quello che ospita un centro radiologico privato.